Dei quattro comuni molisani che si affacciano sulla costa, Montenero di Bisaccia è l'unico non aver ricevuto per questa stagione la bandiera blu, una situazione sulla quale l'amministrazione comunale sta lavorando. Il problema è legato alla raccolta differenziata partita in ritardo rispetto agli altri paesi della costa e che invece è ritenuta un elemento fondamentale per ottenere questo prestigioso riconoscimento, come ha confermato il sindaco di Montenero Nicola Travaglini. La questione della bandiera blu è una questione su cui noi stiamo lavorando da anni, anche perché per avere la bandiera blu viene la necessità di tutta una serie di caratteristiche. Quella che mancava a Montenero era la raccolta differenziata, quest'anno purtroppo non abbiamo la bandiera blu perché nel 2014 abbiamo avuto soltanto due mesi di raccolta differenziata, però siamo convinti che già dall'anno prossimo avremo anche noi questo riconoscimento. A determinare le esclusioni quindi è stato un parametro mancante tra quelli richiesti dall'associazione responsabile della bandiera blu. Non certo la qualità e la limpidezza delle acque, ma il servizio di raccolta differenziata partito solo in autunno e che non ha permesso di raccogliere i dati necessari. Per quanto riguarda tale parametro, recentemente è stato infatti richiesto un incremento nella percentuale di raccolta differenziata minima per l'accesso alle valutazioni. Questo dunque lascia intendere che dal prossimo anno, mantenendo tutti gli standard, anche la marina di Montenero meta ogni anno di migliaia di turisti potrà ottenere la bandiera blu.